Per il secondo, il mio futuro ancora c'è il Milan, ho già parlato tre giorni fa con Paolo Maldini, lui mi ha chiamato, abbiamo parlato del Milan, ho detto che voleva concentrare il suo europeo, però il primo responsabilità ce l'ha il Milan e poi con grande rispetto a Paolo e a Massara, se c'è qualcosa io parlo sempre con loro.